Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua sulla versione JAP di Dragon Ball Z Dockham Battle perché dobbiamo ancora pullare quel cavolo di Frieza LR Ragazzi, credo che con questo terminiamo questo banner Vi avverto Vi avverto per il semplice fatto, intanto passiamo di qua Per il semplice fatto che comunque dal banner ho tutto Full Ability L'unica unità che sto cercando è ovviamente il nuovo Frieza Anche le altre LR ovviamente si accettano Però, mettiamo solo una cosa Prima di iniziare il video pull, questi sono i coin un attimo Sono già usciti due banner, ok? Sono già usciti due banner, va bene? Non capisco il perché non ci sia né BBLR né Gokupan e Trunks Una qualche copia di loro la potevo anche prendere con i coin Ma non ci sono ancora Quindi semplicemente, ragazzi Credo che questo sia l'ultimo video pull su questa Legend Ray Anche perché è ok, c'è usare la nuova unità Ok, la voglio, va bene Però semplicemente non ci sono i coin per poter comprare le LR che mi mancano, ok? O mi manca dell'Ability Ad esempio Gokupan e Trunks Le vorrei ad Ability che fanno un po' schifo ad Ability Free Diciamo, no? Quello è il fatto un po' che mi dà un po' fastidio Nel senso non avere a disposizione la possibilità di prendere le altre LR In questo caso trovare una Kayleca o Lifla Ora vuol dire chaserla per altre copie Per il semplice fatto che Ability Free non mi piace proprio Quindi lasciamo proprio perdere, no? Lasciamo perdere quel fatto Proviamo l'ultima volta, abbiamo 200 stone Abbiamo 200 stone, proviamo l'ultima volta a pullare per Frieza Perché se non vogliono mettere le nuove unità Semplicemente non vado a prendere dei coin per aspettare Faccio prima cercarle le unità senza i coin Ragazzi, partiamo subito Prima multi, vediamo un pochino Vediamo un pochino se la fortuna è dalla nostra parte Anche perché ce ne vuole un bel po' Ho shaftato abbastanza per questa Legendary Ok, 4 di loro con Krillin Vediamo, prima multi intanto Super Saiyan, ci speriamo Ci si spera e basta Siamo qua per cercare un LR E voglio uscirmene con un LR Con questo ultimo video Fine dopo Non andiamo più a cercare Comunque ragazzi, se siete nuovi sul canale Quello che state vedendo vi sta piacendo Considerate l'iscrizione Vediamo un attimino se mi portate un po' di fortuna anche voi Voglio tanto Frieza LR nuovo Voglio tantissimo quel Frieza LR nuovo Un'unità che mi piace anche troppo Anche troppo Anche se non è una delle migliori ragazzi È veramente figo FPFLR Cioè, credo di aver detto tutto Vediamo un attimino Intanto 4 di loro Dai, un PG banner Frieza LR alla prima multi Concludo così Subito Sarebbe molto bello Sarebbe molto bello Ma è quasi impossibile Vero, Tarlas? Prima multi è andata Sì, sì Quello Quello è l'unico problema Sì Sarebbe molto bello Molto, molto bello Peccato per Tarlas Andiamo avanti Tra molti Vediamo un attimino Alla fine sono qua per cercare lui Un poco altro Uh, ok Animazioni Ok Si è fatta aspettare questa animazione Devo essere sincero Si è fatta aspettare molto questa animazione Anche perché negli ultimi due video Li trovate qua sopra Non andare in God Grazie Odio Gottenetrunks con un God Non vuol dire niente Quello sarebbe bellissimo Però Trovate due video qua sopra Dove ho provato Sia da solo Il primo video pool Che con le Onas O cercare La nuova LR Non è uscita ancora Sono qua a cercarla A fine La voglio Almeno ad ability free Almeno ad ability free No, la getta è inutile Eh Ho paura che siano Tre SSR Ho paura Veramente che siano Tre SSR Ah È brutto Ah Che il STR Sì sei forte Ma Sono tre SSR Ok Ho già capito Gottenetrunks Non erano banner Ma che cacchio vuoi Vegito Int Che cacchio vuoi Maledetto 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 Che non sei altro Di un Vegito Int Che tu sia maledetto Vegito Int Oh mamma mia Oh mamma mia Vabbè Questa carta ovviamente Va a fare un piccolo saltino Al baba Solamente perché Amore e simpatia Per quel Vegito Lasciamo perdere Trezza molti ragazzi Quante sono le chance Di provare Sono ormai a mille stone Vorrei veramente trovarla Almeno una copia Almeno una Non mi interessa andare a cercare l'ability Anche perché nasce col crit Quindi mi va anche bene Nasce col 5 di crit Mi va bene ability free Ma la vorrei Vediamo un attimino Super Saiyan 2 E basta Ok si spera ora Si spera E nient'altro Si spera Si spera E nient'altro Cavolo Un altro shaft È pesante Sarebbe un po' dura Da sopportare E ancora È tutta la fortuna Che è andata via da Goku Lo sapevo Ho pullato troppe copie di Goku Questa è la sfortuna Questa è la sfortuna Lo so già Lo so già È tutta colpa di quello È tutta colpa di quello Ho pullato troppi Goku In meno di mille stone È tutta colpa di quello Vediamo un attimino intanto GSSR L'animazione non è una buona Mamma mia Te Ok È un trollino Ma in realtà mi va bene lui Mi va bene lui Mi va bene lui Anche perché Se lo trovo Mamma mia Quanto mi incavolo Li vedete lì Mi incavolo assai Se ne trovo un altro Veramente Mi incavolo assai Se ne trovo un altro Mi spavento un attimo sempre Perché Non che abbia la pose identica Però è simile E dà sempre La posa di Trunks Quindi Va bene Andiamo Ragazzi Ultima Multi Ci proviamo 50 stone Ci si prova Vediamo Non voglio neanche guardare L'animazione Non voglio neanche guardare Sono sincero Ho paura nello shaft No Potevi essere da solo Potevi essere sinceramente Da solo Io sarei stato Felicissimo Ma no Devi venire con Piccolo Mannaggia piccolo Ok Release Rainbow Super Saiyan Vediamo Non mi aspetto niente Lavorrai tanto però Nell'R Ti ripeto Lavorrai tanto Nell'R Super Saiyan 2 Dokkan come vuoi Come vuoi Non mi cambia Vediamo un attimino Ragazzi Dai Proviamoci Ok L'ability sua è sempre buona Però non sono alla ricerca tua Broly Questo è il problema È un'ottima unità Ed è fortissima Ora Ability 3 Però sono Cercare un LR Non Un cavolo di Broly Quello è Quello è il problema È vero che è forte quanto un LR Però non sto cercando Broly Quello è il problema serio Perché non è uscito Krillin da solo Ero molto più felice di vedere Krillin da solo Devo essere sincero Cioè Quando si vede Krillin da solo Uno può Iniziare a sperare No Deve comparire piccolo E rompere le palle Deve venire piccolo E deve rompere le Palle Piccolo del K Piccolo di me No Non la finisco Non la finisco Sì Sarebbe giusto finire la frase Però non la finisco GSSR Ok GSSR Quanta è la chance Frieza Frieza nuovo No 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 Questo è un maledetto troll Questo è un maledetto troll No 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 Non è vero Non è fottutamente vero Ma non è vero Ma non è vero Ce lo capiamo È qui È in rate up Nel banner di Goku Me ne è uscito uno solo Mi deve uscire Sei un troll maledetto Frieza Sei un troll maledetto Frieza Oh mio dio Non è nemmeno in rate up Non è nemmeno in rate up Che uno dice Vabbè rate up Non ce l'ho È praticamente nuovo Ci sta L'ho trovato Yeah No Non è nemmeno rate up Ma ma come cavolo si fa Che palle Ragazzi ho deciso Ultima multi E andiamo È l'ultima veramente E poi io questo banner Non lo tocco più Non mi interessa È bellissima un'unità La voglio Ma Lasciamo perdere Wow che animazione Questo si chiama rage pull È una cosa che non si deve fare Normalmente Però Le volte si fa Vediamo se almeno porta qualcosa Super Saiyan 3 Nemmeno God Cavolo non l'ho beccato ancora God È incredibile God Non esiste più È assurdo È carino da trovare Ok che non aumenta le chance Di trovare un LR Il Super Saiyan God Ma almeno sapere che ci sono Tre SSR all'interno del banner È comunque buono Quindi alla fine dei conti Ok Però Vabbè Non deve più uscire Il Super Saiyan God Lo accetto Non è un problema Va bene Sarebbe bello vederlo Però Va bene comunque Ragazzi GSSR L'ho già capito Ok Si Shaftato Ok Basta Mi arrendo Mi arrendo completamente Mi arrendo a questo banner Mi arrendo a questo banner Basta Ragazzi come detto Mi arrendo a questo banner Non vuole uscire Non divento scemo Per cercarlo Anche perché Con il fatto che Nei coin Non hanno ancora messo Le LR nuove Un po' Mi 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 far rompere un po' La situazione Perché quando arriveranno Poi quelle LR Chissà Fra dieci anni È quel problema Comunque Ragazzi Direi che per questo video È tutto Abbiamo shaftato Ci sta a shaftare alle volte Non me la prendo più di tanto Ragazzi Io Vi chiedo solamente Di lasciare tanti bei mi piace Commentato ovviamente E ovviamente Come detto prima Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione In più ragazzi Vi ricordo che potete seguirmi Sulla pagina Facebook Instagram E Twitter Tutti i link li trovate sotto In descrizione E ultima cosa Ma non meno importante Se volete iniziare Dragon Ball Z Da Camp Battle Versione Global Lodge Up Con un boost iniziale Andate a controllare I link in descrizione Detto questo Noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Grazie a tutti.